sarve e oggi vi presenterò il tramano blog la nata buona e Diana non mi uccide Don Farnado del Gado e Emanuele la nata buona uccide Emanuele del Gado e Don Farnado allora prima e cosa allora 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 andare indietro della cassa dell'interno Grazie a tutti. 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 Ecco qua questo rosso. No, è... Questo qua è Fernando. Grazie a tutti. Sì, sta arrivando. E suonerà il violino... E... 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 Dove... E... 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 E...